La grande famiglia del Belevento Calcio comprende anche tantissime ragazzine che ogni giorno danno dei calci al pallone, cercando di portare in alto il nome della città. Stiamo parlando delle streghe, società affiliata al sodalizio di Via Santa Colomba e che quindi ne porta anche il logo sul petto. A suggello dell'unione che c'è tra le due realtà cittadine, Mr. Bucchi si è recato presso il Mellusi per far visita alle giovani calciatrici che lo hanno accolto con grande entusiasmo. Ascoltiamo il tecnico. Mi piace moltissimo il calcio femminile, credo che la disciplina e la passione che hanno a volte siano invidiabili anche per gli uomini. Ho avuto la fortuna in passato di allenare in delle società dove c'erano delle scuole femminili e anche lì ogni tanto sono andati a vedere degli allenamenti, credo che ci siano degli spunti interessanti in ogni cosa. È stato per me un piacere quello di venire qui a vedere qualcosa dei loro allenamenti e ci siamo scambiati un in bocca al lupo reciproco per le nostre stagioni. Speriamo a noi di riuscire a vedere qualche loro partita e di assistere a qualche nostro bel match. Le ragazze, a differenza degli uomini, hanno la capacità di vivere tutto al massimo. Magari l'uomo ha un po' più di costanza come equilibrio. Nelle ragazze, specie a quest'età, magari si tende ad estremizzare, quindi a volte c'è la gioia incredibile, a volte la tristezza. Quindi credo che semplicemente nel loro percorso di crescita, grazie alle tante persone veramente brave, capaci e competenti che ci sono, troveranno il loro equilibrio e magari faranno una grande carriera. Grazie. Grazie.